Buon pomeriggio cari amici, sono Rudy Mares da Ponte nelle Alpi. Vi aggiorno sulla situazione della Spagna. Oggi ci sono 29.000 contagi, 1.350 morti. Ma il contagio corre molto veloce. Il Presidente del Governo ha esteso lo stato di allarme per altri 15 giorni. Ma vi assicuro che dopo aver visto quello che stava accadendo in Italia, si sono svegliati molto tardi, copiando in qualche modo ciò che viene fatto là. Il Presidente fa apparizioni televisive che assomigliano a un raduno elettorale senza dire nulla. Impianta gabinetti di crisi con presunte eminenze mediche e i loro consiglieri sono il direttore degli avvisi sanitari, Fernando Simon, che disprezzava questo avviso il 7 marzo, dicendo che chi voleva andare a dimostrazione dell'8 marzo poteva andarci. E l'altra persona, Alberto Triglio, capo di epidemiologia della clinica di Barcellona, che non solo ha negato la pandemia, bensì la derisa. Questo quando era più che evidente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito il 30 gennaio che avremo avuto un grosso rischio qua in Spagna. Ma il governo ha incoraggiato 400 marce di massa in tutto lo Stato per il giorno 8, sapendo che c'erano 673 contagi, però la mattina del giorno 9 ce n'erano 1100 di infetti e 28 i morti. Vorrei anche parlare della situazione in Catalunia. Qui tutto è politizzato solo ed esclusivamente per l'indipendenza, che dice che il virus di qua è diverso da quello del resto del mondo. Non si capisce perché. Essi sostengono di avere la migliore assistenza sanitaria, ma i soldi per quella sono stati deviati alla causa dell'indipendentismo. Non solo questo, ci sono ancora molte persone nel metro e i controlli sono carenti. Un abbraccio e suerte a todos.